Dereatevi per te sopra a un foam roller. L'idea è quella di arrivare a prendere tra il grandentato, il dorsale e il sottoscapolare. Da qui gestite il peso come spiegato, portate il braccio verso il soffitto e ritornate in giù. Stiamo tra una mobilizzazione e un foam rolling spedio proprio.